Sono 335 i nuovi casi di covid in Puglia, ma a fronte di 5.528 tamponi effettuati domenica 2 maggio, registrati nel bollettino epidemiologico regionale. Pesante invece il numero dei decessi, 52 nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi in Puglia sono 47.023. Preoccupa nella nostra regione il tasso di occupazione delle terapie intensive al 37%, 7 punti oltre la soglia critica, mentre al 42% il tasso di occupazione dei reparti di malattie infettive, pneumologia, medicina generale, appena sopra la soglia limite pari al 40%. Il quadro epidemiologico più generale registra una progressiva riduzione dei casi di contagi su base settimanale, con un meno 15% rispetto ai 7 giorni precedenti e con una incidenza sempre settimanale che in questo momento è inferiore ai 200 casi su 100.000 abitanti.